e il secondo archetto che è questo e ripartiamo con i punti alti quando arriviamo nel centro vi ricordate facciamo 10 punti alti nel primo arco di 7 catenelle 10 punti alti nel secondo arco e poi tutto prosegue allo stesso modo terminate con i 9 punti alti e un punto alto doppio contando 1, 2, 3, 4 catenelle qui e questo è come prosegue il punto virus vi ricordo che dopo questo c'è la sequenza dei punti alti sui punti alti dove arriverete a un archetto dopo un archetto avete di nuovo le casette se voi tornate indietro nel video lo vedete a quel punto ripartiamo